Quella chi è? Signora, che accite naturalmente. Buono! Peter! Non smettere di girare quello spiede! Questo è il segreto di una ladra arrostita come si deve! Ha un odore così buono, mamma! È così, non è vero? Oh, che magnifico profumino! Oh, per principale! Ehi, amici strano, fai riuscire! Scusa buona per non sentire la storia! Almeno sono atterrato su una cosa morbida. Ah, che bollente! Scatta, scatta, scatta! Mamma, mamma, mamma! Non avevi detto che non potessero mangiare le castagne prima che tornassero a casa papà e mi chiuscire? Non le stavo mangiando, stavo solo controllando che non fossero bruciate. È una cosa da grandi bocchi e tu non devi gridare! Petita! Mamma, io sono bellita! Io sono bellita! No, no, ma certo tu sei! Petita, sì! Benita! È lo stesso! Non c'è un po' di due 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 due